grazie paolo grazie per l'invito spero che si senta adeguatamente vi ringrazio appunto per essere qui perché per me è un piacere parlare di vitamina d proprio di recente ne ho parlato in quel divasto in un convegno dove c'erano circa quasi 300 persone ad ascoltarci è stata un'emozione molto grande e più o meno vi riproporò la stessa relazione fatta quel giorno lì vitamina d giornaliera come il sole e per chi non mi conosce io sono un medico uno specialista in cardiologia al momento faccio il medico di base e i momenti di coronavirus rassicura che molto impegnativo anche se molto gratificante e non ho nessun tipo di conflitto di interesse per cui grazie a dio posso dire quello che voglio basta che naturalmente dico cose giuste cose provate dalla scienza conflitti di interesse nessuno dicono le mie le mie slides e parliamo di vitamina d tenete presente che purtroppo parlando in senso generico di vitamine vi sono nella popolazione generale delle carenze nutrizionali importantissime uno degli ultimi studi fatti risale circa il 2010 ed è fatto nella popolazione americana ma purtroppo ben sappiamo che anche la popolazione italiana si sta americanizzando e ci sono delle carenze nutrizionali estremamente importante calcio folate ferro magnesio sono le prime che mi vengono in mente scritte qui nella slide che sono spese volentieri presenti nel 70 80 per cento della popolazione e questo purtroppo vale anche per la vitamina d anche se parlare di carenza nutrizionale per la vitamina d è un pochino al limite perché tenete presente che la vitamina d nei cibi ce n'è ben poco ma c'è nel sole o negli integratori ma di questo ne parleremo successivamente allora la vitamina d sostanzialmente è una vitamina duplice c'è la vitamina d2 e la vitamina d3 la vitamina d2 quella presente nei funghi o nei prodotti vegetali è purtroppo un'attività piuttosto scarsa nel livello biologico e la vitamina d3 è quella un pochino che conosciamo tutti il cole calci ferro è stata scoperta nel 1925 da un ricercatore tedesco e un ricercatore americano e nel 1930 è stata identificata la struttura della vitamina che adesso vi faccio vedere che c'è qui nella mia slide che è una struttura anche relativamente semplice il buon cardillo ce la potrebbe tranquillamente commentare e solo però nel 1974 e 76 si sono capiti i meccanismi come funziona questa vitamina d e gli effetti che ha la vitamina d purtroppo la vitamina d ha il grosso difetto di chiamarsi vitamina ma in realtà è un pro ormone a tutti gli effetti e forse uno dei motivi per cui è sottovalutato è proprio questo essendo un pro ormone avrebbe sicuramente peso essendo una vitamina le persone normali anche i medici non aggiornati dicono vabbè è una vitamina che sarà mai e invece non è così purtroppo il problema principale della carenza di vitamina d è il rachitismo e adesso vi faccio vedere cosa vuol dire rachitismo questa è un'immagine di del primo dopoguerra dove alcuni ragazzi purtroppo soffrono di questa patologia piuttosto importante perché una vitamina d al di sotto dei 10 nanogrammi che il valore un pochino standard che usano i nostri laboratori durante la pubertà purtroppo fa questo brutto effetto è per questo che mussolini che non voglio entrare nella politica e per l'amor di dio però lui doveva assolutamente arruolare delle persone sane delle persone forti nei suoi eserciti che cosa fece fece le colonie marine questa è una colonia marina dove vado ancora io adesso fare kitesurf e questo sono io con un attimo di così di vezzo che vi voglio far vedere quanto surfo le onde mussolini fece questa colonia questa è la colonia reggiana dove gli abitanti di reggio emilia venivano d'estate a prendere il sole e in questo modo mussolini riusciva a evitare il rachitismo rendere i giovani più forti e già che c'era li indottrinava per il fascismo adesso come vi ripeto non voglio parlare di politica ma sicuramente di salute sì paolo si sente come va mi rimetto la cura la cuffia vicino alla bocca così si sente meglio benissimo e pertanto quei valori lì al di sotto dei 10 nanogrammi vanno assolutamente evitati in particolare durante lo sviluppo ma in realtà per tutta la vita perché sotto i 10 nanogrammi il rischio di avere dei guai di salute non è trascurabile e a questo punto andiamo avanti se uno di noi metteste la parola vitamina d in pubmed che è un computerone megagalattico gestito dal governo americano dove ci sono praticamente tutte le pubblicazioni del mondo quelle scientifiche neanche solo quelle passando dal 2000 per esempio dove c'erano 400 pubblicazioni sulla vitamina d per arrivare al 2011 dove le pubblicazioni erano circa 2000 e per arrivare a qualche settimana fa dove le pubblicazioni sulla vitamina d erano 83.728 ripeto 83.728 pubblicazioni sulla vitamina d voi capite che dire che la vitamina d non serve serve poco o è solo un mezzo mi sembra estremamente riduttivo perché una vitamina che ha 83.000 pubblicazioni quanto meno dovrebbe suscitare interesse questa cosa e la carenza di vitamina d quella che vi ho fatto vedere prima in fondo la punta dell'iceberg cioè il rachitismo è una cosa grazie a dio estremamente rara però è solo la punta dell'iceberg perché in realtà sotto questo rachitismo ci sono tutta una serie di problemi di salute piuttosto importanti osteoporosi dolori cronici alcuni tipi di cancro la stanchezza problemi durante la gravidanza alcune malattie autoimmuni come per esempio la sclerosi multipla della psoriasi non ve ne parlo perché tanto l'avete visto sulla vostra pelle quanto è importante la vitamina d per mandare in remissione la psoriasi la depressione le malattie mentali e anche le infezioni ci sono alcuni studi estremamente recenti dove alcuni colleghi di torino hanno trovato una correlazione tra carenza di vitamina d e il rischio di infezioni può essere utile nel prevenire il coronavirus forse sì ce ne sono molti di studi su questo non su coronavirus non su vitamina d e coronavirus ma sicuramente ci sono molto studi sulla vitamina d e le malattie infettive respiratorie insomma la classica influenza è poco di recente è uscito questa review di un gruppo inglese del national institute of health research che dice che in base alla loro meta analisi c'è uno studio di tutti gli studi pubblicati avere adeguati livelli di vitamina d presa su base o settimanale su base giornaliera riduce il rischio di avere infezioni di tipo respiratorio e di questi e come dico sempre anch'io con questi chiari di luna potrebbe anche essere un aiuto chissà onestamente tra aver la vitamina d bassa e aver la vitamina d normale per me è molto preferibile averla normale che averla bassa fatto questo breve scursus sulle malattie infettive andiamo avanti come vi dicevo la carenza di vitamina d purtroppo è ubiquitaria circa il 70 80 per cento di persone al mondo al mondo ha una carenza importante o meno importante di vitamina d dal punto di vista scientifico si parla di carenza al di sotto dei 30 e deficienza c'è una carenza molto importante al di sotto dei 10 nanogrammi occhio all'unità di misura e io nei miei pazienti la vedo spessissimo 10 12 15 proprio oggi un mio caro amico che peraltro è un operatore di polizia sempre in giro in macchina per cui quando capita il sole lo prende anche per motivi di lavoro anche lui oggi mi ha mandato i suoi esami c'aveva 17 di vitamina d vabbè questo è il periodo dell'anno in cui la vitamina d è più bassa però insomma questo è un problema non indifferente come dicevamo la vitamina d è la vitamina del sole per cui la pelle nei momenti in cui viene baciata dal sole ma non tutti i soli tra virgolette solo il sole nelle ore più calde della giornata e in un certo periodo dell'anno cioè indicativamente da febbraio marzo fino a ottobre novembre certo se siamo fortunati che siamo a pantelleria prendiamo prendiamo e costruiamo sicuramente più vitamina d che se viviamo a trento però insomma in generalmente nel periodo estivo il sole riesce a attivare i meccanismi cutanei per la produzione di vitamina d tenete presente che le creme solari bloccano quasi completamente il discorso della vitamina d cutanea una crema 50 sostanzialmente azzera la produzione di vitamina d una crema 10 20 30 di protezione la riduce moltissimo così per inciso dalla pelle dove vi è la fabbricazione del cole calciferolo poi si passa al fegato perché la vitamina d per funzionare ha bisogno di un certo giro il primo giro che fa la vitamina d dalla pelle attraverso il sangue dal fegato il fegato lo trasforma in una versione un po migliorata tecnicamente si chiama idrossilata direbbe paolo direbbe o direbbe giuseppe la versione idrossilata è ancora inattiva però è un buon è un buon marker della quantità di vitamina d che il nostro corpo sta agendo per quando facciamo gli esami del sangue andiamo a misurare il calci di iolo cioè la vitamina d idrossilata non è attiva una batteria un reservoir un bicchiere di vitamina d che il sangue utilizza in base che il sangue meglio scusate che l'organismo utilizza in base alle proprie necessità successivamente questa vitamina d sempre attraverso il sangue circola arriva nel rene e arriva in tutte le cellule dell'organismo e la forma idrossilata viene idrossilata nuovamente e si forma la vitamina d funzionale che tecnicamente si chiama calcitriolo la 1 25 idrossi vitamina d ed è quella che poi svolge la propria funzione una volta si pensava che solo il rene fosse in grado di attivare la vitamina d in realtà si è scoperto successivamente che moltissime se non tutte le cellule dell'organismo attivano la vitamina d dalla 25 calcidiolo alla 1 25 calcitriolo e pertanto sì il rene è importante ma conta anche l'attivazione periferica e questa è una cosa abbastanza sconosciuta e più perché l'organismo se l'autoregola anche a livello locale oltre che a livello renale dopodiché qual è il passo successivo che questo calcitriolo girando nuovamente per il sangue arriva a tutte le cellule dell'organismo queste cellule dell'organismo hanno un recettore una specie di interruttore per cui cosa succede se noi questo interruttore ce l'abbiamo molto morbido ci basta pochissimo calcitriolo per attivarlo il recettore scatta va nel nucleo della cellula e la cellula a quel punto comincia ad attivare tutta una serie di geni centinaia e centinaia di geni che hanno per lo più una funzione positiva per l'organismo si formano tutta una serie di proteine anche delle proteine antinfiammatorie anche delle proteine come dire che uccidono passatemi il termine virus e batteri questo giusto per capirci e così via per cui queste proteine che l'organismo poi produce quando scatta l'interruttore della vitamina d che si chiama il recettore della vitamina d a poi fa sì che la vitamina d svolga i propri effetti c'è un però questo recettore può essere più o meno rigido questo interruttore può scattare con facilità ma può scattare anche con molta difficoltà questo questo meccanismo si chiama come vi posso spiegare si chiama non difficoltà recettoriale si chiama che insomma per farla breve questo recettore è molto rigido e pertanto resiste bravo bravo paolo grazie resistenza del recettore della vitamina d più questo tende molto dalla nostra genetica e più l'organismo ha bisogno di vitamina d informativa per far sì che questo recettore poi funzioni e scatti e per questo che magari per me c'è bisogno adesso dico delle cifre a caso per capirci solo di 2000 unità al giorno di vitamina d e per un'altra persona che ha questo recettore rigidissimo è costretto a fare delle dosi di vitamina d estremamente elevate e non dico neanche il numero perché in questo modo il suo recettore alla fine comincia a funzionare perché è talmente rigido che ha bisogno di livelli di vitamina d altissimi per questo a maggior ragione la vitamina d va personalizzata non esiste un dosaggio che va bene per tutti vi è un dosaggio tra virgolette standard che è 2000 unità al giorno che l'efsa consiglia di utilizzare a livello giornaliero per un discorso di integrazione cioè di colmare del proprio deficit di vitamina d e mantenerlo costante e si può fare tranquillamente in autoprescrizione due minuti al giorno se per qualche motivo particolare noi dovessimo superare queste due minuti al giorno non siamo più nell'autoprescrizione ma di fatto la vitamina d viene assimilata ad una sorta di medicina qui c'è bisogno di un operatore sanitario un medico che in qualche modo vi consigli il dosaggio giusto per voi e pertanto a maggior ragione è sempre conveniente sentire il parere di un esperto quando si parla di vitamina d gli effetti collaterali sono molto rari però certo che più aumentiamo la dose giornaliera per più tempo prendiamo delle dosi anche abbastanza altine e più in qualche modo ci dobbiamo controllare tutto chiaro paolo possiamo andare avanti perfetto a questo punto vediamo un attimino il sole in grado di darci la nostra vitamina d quotidiana la vitamina d quotidiana generalmente nelle nostre latitudini la pelle la sintetizza da indicativamente da marzo a novembre questo però presuppone il sole delle ore più calde almeno nei mesi più freddi cioè marzo aprile la vitamina d la facciamo se andiamo al sole ma se ci andiamo tipo alle 11 a mezzogiorno se ci andiamo alle 6 di sera naturalmente di vitamina di vitamina d ne facciamo ben poca e nel periodo invernale purtroppo il sole i raggi del sole non sono così intensi da far sì che la pelle costruisca la vitamina d tenete presente che un'altra cosa sconosciuta è più che i raggi del sole che producono vitamina d non sono quelli che abbronzano ma sono quelli che scottano che sono molto adeguatamente filtrati dalla diciamo dalle creme solari e per cui il sole che conta purtroppo è quello che scotta mi raccomando questo non vuol dire che tutti i giorni siamo al sole quattro ore e ci bruciamo diventiamo viola assolutamente il sole va preso con giudizio sempre però tenete presente che se vogliamo costruire un po di vitamina d qualche minuto di sole nei momenti in cui il sole è più caldo e più alto nel cielo sono praticamente indispensabili 5 10 un quarto d'ora mi raccomando evitiamo il fai da te evitiamo gli estremi dell'ostione solare perché altrimenti togliamo il lavoro che ne so al collega che segue l'osteoporosi ma diamo poi lavoro al dermatologo e mi raccomando o all'oncologo giusto giustissimo in montagna il sole naturalmente ha uno strato di aria più sottile da passare per cui il sole montano è più efficace rispetto a quello del mare e ovviamente come vi dicevo oggi agli ustioni e le creme solari riducono perché nel frattempo sto scorrendo le mie slide riducono ovviamente la fabbricazione della vitamina d da parte della pelle se siamo in un ambiente inquinato purtroppo è brutto dirlo di questi tempi nella pianura padana dove c'è sempre quella nebbiolina di la vitamina d se ne fa meno se il tempo è brutto che c'è c'è il grigione oppure le nubi di vitamina d ne facciamo meno e un'altra cosa importante è il colore della pelle siccome sostanzialmente per produrre vitamina d bisogna che il sangue riceva il sole la microcircolazione cutanea una sottile rete di capillari che passa nella pelle che quel sole lì arrivi al sangue sostanzialmente se abbiamo una pelle molto scura ovviamente di vitamina d ne produciamo meno perché la melanina cioè lo scuro della cute fa sì che questo sole arrivi meno dove serve cioè nel ad irradiare il sangue sostanzialmente e infatti le persone di colore hanno dei livelli di vitamina d molto più bassi dei nostri quando si trasferiscono qui da noi alle nostre altitudini come sono giù in africa che sono i cacciatori raccoglitori nel loro caso il problema non esiste voi pensate che una delle popolazioni più sane più più sane del mondo gli azda della tanzania hanno un livello medio di vitamina d sui 60 nanogrammi da noi vedere 60 nanogrammi senza integrazione capita veramente una volta mi mi sarà capitato due volte tre volte da quando faccio il medico di vedere 60 nel sangue senza l'integrazione è rarissimo gli azda della tanzania che sono i cacciatori raccoglitori che fanno una vita a contatto con la natura vanno a dormire al tramonto si svegliano all'alba vivono di cacciagione ci hanno una socialità e delle tribù bellissime dove vivono tutti quanti insieme loro che hanno un tasso di malattia bassissimo peraltro hanno mediamente sui 55 60 nanogrammi di vitamina d nel sangue le persone anziane hanno bisogno di più vitamina d o almeno di più sole perché la loro cute ne fa meno certamente rispetto ai giovani e se ci abbiamo qualche chiletto di troppo anche quello diventa un problema la vitamina d è liposolubile per cui tende ad accumularsi nell'adipe nella panza per capirci e ovviamente rimane sequestrato nell'adipe e pertanto non va nel sangue non essendo nel sangue di fatto la vitamina d il livello di vitamina d scende anche l'abbigliamento importante perché un conto se prendiamo il sole con il costume un conto se prendiamo il sole con con le maniche lunghe con i pantaloni lunghi dove magari solo il viso e le mani sono irradiate in quel caso lì ne facciamo molto meno e purtroppo questo è un problema estremamente importante nei paesi arabi qui nella mia slide avevo messo questa bellissima immagine i paesi arabi per motivi religiosi dei quali non entro in merito per l'amor di dio hanno come dire questa cultura dove le donne devono essere molto coperte e nelle donne arabe c'è una carenza di vitamina d incredibile peggio che da noi non so chi di voi è stato nei paesi arabi lì il sole picchia molto ma al grado ciò purtroppo le donne hanno una carenza estremamente importante per una persona normale basta indicativamente una decina di minuti un quarto d'ora nelle ore calde per fare la quantità di vitamina d che ci serve quei 3 4 5 minuti al giorno fatte dalla pelle ma se abbiamo la pelle scura dobbiamo prendere più sole o se usano delle creme solari la quantità di diciamo di vitamina d è sicuramente ridotta e questo discorso vale anche per gli animali gli animali d'allevamento per esempio che sono allevati nelle stalle a coperto hanno pochissima vitamina d nel sangue viceversa gli animali allo stato brado e anche qui avevo messo questa bellissima immagine quello dietro è san marino come potete vedere di animali di un amico che ha un allevamento all'aria aperta gli animali all'aria aperta hanno una quantità di vitamina d molto migliore rispetto a quella che hanno gli animali in stalla per cui a maggior ragione è molto più importante utilizzare i metodi naturali anche negli allevamenti come dicevamo la vitamina d attiva tantissimi geni centinaia centinaia quasi 2000 geni e per essere attivata la vitamina d ha bisogno di una serie di cofattori il cofattore più importante il magnesio ma a sto punto voi mi direte ma quante persone al mondo ci sono che hanno carenza di magnesio più o meno come la vitamina d il 60 70 80 per cento delle persone del mondo hanno carenza di magnesio e la vitamina d senza magnesio fa molto più fatica ad attivarsi pertanto anche se abbiamo dei livelli di vitamina d accettabili nel sangue alla fine funziona molto meno tenete presente che il magnesio è quasi esclusivamente nei prodotti vegetali e anche qui le culture di massa fanno sì che noi la nostra faccio per dire la nostra foglia di insalata o il il nostro radicchio è piantato sempre nello stesso punto e pertanto prende il magnesio dal suolo il magnesio prima o poi nel suolo finisce allora gli mettono i concimi chimici i concimi chimici c'hanno npk azoto fosforo e potassio per cui nei concimi chimici c'è il potassio e pertanto il nostro amato potassio più o meno nei cibi c'è sempre ma il nostro amatissimo magnesio ce n'è molto meno e pertanto quegli integratori potassio e magnesio c'hanno come dire un'utilità limitata è molto più importante integrare il magnesio in quantità adeguate che integrare potassio e magnesio perché il potassio nei cibi più o meno c'è mentre il magnesio non c'è per il motivo che ho detto perché la pianta è sempre piantata nello stesso punto finisce il magnesio del terreno finisce il magnesio della pianta il ruolo principale della vitamina d essenzialmente quella della regolazione del calcio riesce in qualche modo la vitamina d a far sì che il calcio nel sangue venga come dire venga tenuto sotto controllo ma questo avviene per mezzo di tutta una serie di diciamo di componenti che vanno ben oltre la vitamina d quello che molti di voi avranno sentito parlare è il paratormone giusto per capirci un po qui andiamo un po nel tecnico però cerco di spiegarlo il paratormone è un po l'opposto della vitamina d perché cosa succede scopo principale dell'organismo è quello di mantenere costante il valore di calcio nel sangue l'organismo la priorità assoluta è che il calcio rimanga costante nel sangue quella è la priorità assoluta per questo calcio sostanzialmente lo gestisce in tre modi o attraverso le urine aumenta o riduce l'escrezione di calcio nelle urine o attraverso l'alimentazione aumenta o riduce l'assorbimento del calcio che mangiamo se noi mangiamo molto calcio l'organismo cerca in qualche modo di difendersi più riduce l'assorbimento intestinale di calcio se noi mangiamo pochissimo calcio l'organismo cerca di assorbire tutto il calcio che gli viene proposto dal punto di vista alimentare anche se poi l'assorbimento del calcio è sempre abbastanza relativo a 20 30 40 per cento non è mai altissimo e il terzo meccanismo che l'organismo usa è il calcio di deposito delle ossa se l'organismo non riesce ad assorbire il calcio che c'è nell'alimentazione a un certo punto lui è costretto di è costretto di come dire di prendere questo calcio dove può e sostanzialmente lo smonta dalle ossa se il calcio nel sangue scende l'organismo è costretto a toglierlo dalle ossa per rimetterlo nel sangue perché priorità assoluta dell'organismo è mantenere il calcio costante se il calcio ci scendesse troppo nel sangue ci sarebbero tutta una serie di problemi anche piuttosto importanti cioè se uno ci avesse un'ipocalcemia molto importante gli viene una cosa poco simpatica da dire che si chiama tetania io purtroppo ho avuto il piacere di averla perché ho avuto un problema di salute tanti anni fa e va sicuro che non è simpatico a un certo punto vi ritrovate con la mano così e non riuscite più a aprirla questa mano che a un certo punto vi si stringe contro la vostra volontà e comincia a tremare e va sicuro che non è simpatico per niente per cui per evitare che questo accada adesso si comincia dalla mano ma poi purtroppo piano piano se il calcio scende ancora si un po si induriscono tutti i muscoli del mondo dei crampi molto importanti ecco giusto per capirci infatti c'è un po' di un test che si utilizza per capire l'eventuale carenza del calcio è un test semiotico in cui si blocca un pochino la circolazione con l'accello statico e si vede se cominciano a comparire questi cloni si si adesso Paolo non so se i ragazzi ti sentono perché io ti sto ascoltando nella cuffietta si si adesso comunque lo dico certo Paolo si si adesso Paolo ci sta giustamente ricordando che c'è un test che si usa in medicina dove ti mettono un laccio sul braccio e vedono se in qualche modo ti si contraggono i muscoli dove si va a cercare di slatentizzare una lieve tetania che qualche volta capita di avere e pertanto diventa un modo indiretto per capire che abbiamo troppo poco calcio nel sangue per cui recapitolando primariamente l'organismo mantiene il calcio costante se mangiamo troppo calcio o abbiamo troppa vitamina D nel sangue e pertanto tutto il calcio che c'è in giro passa nel sangue dall'intestino l'organismo cerca di eliminarlo con le urine e cerca per quello che può di depositarlo dentro le ossa viceversa se c'è troppo poco calcio nel sangue l'organismo cosa fa? aumenta il paratormone e il paratormone smonta il calcio dalle ossa e lo mette nel sangue e così il calcio rimane costante ma vuoi capire che questo è un meccanismo che alla lunga può dare un sacco di problemi perché smonta il calcio oggi, smonta il calcio domani queste ossa alla lunga non sono sicuramente contente uguale osteoporosi perché un modo indiretto per capire se la nostra vitamina D sta funzionando e se mangiamo un'adeguata quantità di calcio è quella di dosare contemporaneamente come esame del sangue la vitamina D il paratormone e il calcio nel momento in cui abbiamo questi tre esami un medico esperto, un terapeuta esperto può cercare di capire se il vostro meccanismo della gestione del calcio e la vostra capacità di attivare la vitamina D è adeguata io ho la fortuna di avere molti pazienti russi voi immaginate che in Russia non c'è certamente il sole che c'è da noi perché loro sono storicamente nei millenni abituati a pochissimo sole e vedo molte mie pazienti russe che hanno una vitamina D di 20 che noi ben sappiamo che è molto bassa la vitamina D di 20 ma malgrado ciò loro hanno 20 anche di paratormone hanno un paratormone molto basso perché nel loro caso specifico gliene basta poco loro nei millenni si sono selezionati ad avere poca vitamina D nel sangue e pertanto si accontentano di poca vitamina D per far sì che il loro paratormone rimanga basso e non smontino il calcio dalle ossa questo è un meccanismo empirico è giusto per capirci vedo invece molte persone latine che hanno sempre 20 di vitamina D però ci hanno 80, 90, alcune volte anche 100 di paratormone il massimo è sugli 80, 90 per capirci ci hanno un paratormone molto alto perché la loro vitamina D non è sufficiente per far scattare quel famoso interruttore della vitamina D e far sì che si inneschi tutti i meccanismi positivi che la vitamina D va per cui a maggior ragione la vitamina D non si improvvisa fino a 2.000 unità l'EFSA ci dice che si possono assumere tranquillamente a livello giornaliero però in casi particolari è sempre meglio farsi seguire da una persona esperta perché purtroppo i metabolismo e i nostri recettori sono molto diversi una persona dall'altra persona spero che sia stato tutto chiaro e andiamo avanti per cui a mano a mano che la vitamina D fa effetto il paratormone nel sangue si riduce e questo ci permette di valutare quanto sta funzionando la vitamina D benissimo il meccanismo extrarenale ne abbiamo parlato prima e a sto punto vediamo un attimino quali sono le classi di età che risentono positivamente o negativamente in caso di carenza della vitamina D già a livello di donna pregnant incinta in stato interessante anche a quel livello avere adeguati livelli di vitamina D può fare la differenza voi pensate che bassi livelli di vitamina D durante gli ultimi tre mesi di gravidanza aumentano tutta una serie di rischi anche per il bimbo peraltro aumentano i rischi di una malattia che si chiama preeclampsia cioè in pratica l'organismo gestisce in maniera difficoltosa la pressione del sangue e in alcuni casi per fortuna molto rari ma ogni tanto capitano vi può essere una preeclampsia dovuta o meglio dovuta dagli studi fatti si dice che chi ha la vitamina D più bassa rischia maggiormente la preeclampsia rispetto a chi ha la vitamina D normale per questo è un altro buon motivo per far sì che anche nelle donne incinte ci siano adeguati livelli di vitamina D e questo purtroppo ho alcuni colleghi ginecologi molto sensibili da questo punto di vista altri invece completamente tra virgolette sordi io alcuni glielo ho detto a sfinimento della vitamina D che è importante ma nella loro routine giornaliera purtroppo non c'è questa mentalità di dosarla io alle mie donne incinte spesso faccio il dosaggio e ho delle sorprese anche molto importanti durante i primi anni di vita è molto importante avere adeguati livelli di vitamina D perché bassi livelli di vitamina D predispongono a tutta una serie di problemi di salute persino l'asma persino alcune allergie persino qualche volta al sovrappeso per cui gli studi fatti ci dicono studiamo i ragazzini con l'asma studiamo i ragazzini con le allergie e questi ragazzini spesso e volentieri hanno livelli molto bassi di vitamina D e anche negli adulti più o meno lo stesso discorso bassi livelli di vitamina D sono stati associati all'ipertensione all'obesità, al diabete, alla sindrome metabolica a tutta una serie di problemi molto importanti di salute e non ultimo a tutta una serie di malattie autoimmuni particolarmente importanti nelle persone anziane invece bassi livelli di vitamina D e lì purtroppo è lo standard nelle persone anziane la vitamina D se non fanno l'integratore è matematicamente bassa in casi lì ovviamente ci sono tutta una serie di problemi importanti il classico è quello dell'osteoporosi ma anche la miopatia tecnicamente si chiama fragilità delle persone anziane sarcopenia per essere precisi insomma a grandi linee cosa è che succede? c'è un mainstream un modo di pensare diffuso sicuramente sbagliato che ci insegna in qualche modo e ci mette in testa che le proteine sono molto dannose per la salute in particolare le proteine animali poi una carenza di proteine animali nelle persone anziane specialmente si è sommata a una carenza di vitamina D che si chiama sarcopenia sarco vuol dire carne per cui carenza di carne sostanzialmente carenza di muscoli vediamo il nostro nonnino di 85 anni che fa letto e poltrona perché da una parte gli facciamo venire l'ansia e mangia poche proteine dall'altra parte al sole non ce lo mettiamo il nonnino c'ha poca vitamina D questo mix e non solo questo mix comunque fa sì che che l'organismo come dire non ha muscoli adeguati per la vita di tutti i giorni e spesso e volentieri questi muscoli si rimpiccoliscono al punto che non siamo più neanche in grado di alzarsi al divano per cui specialmente nelle persone anziane è adeguato e giusto mangiare una quantità adeguata di proteine animali proteine di qualità ovviamente e un'adeguata quantità di vitamina D per far sì che questi muscoli vengano tonificati adesso non entro nelle quantità perché varia da casa a casa questo deve essere un po' il medico a misurarle queste cose qui o il biologo nutrizionista o il terapeuta però nelle persone anziane questo meccanismo è particolarmente critico tutto chiaro Paolo? assolutamente sì perfetto e devo dire che tu hai detto che uno mi spiegherà le cose sempre in maniera più facile e più imprensibile possibile Paolo mi ha fatto dei complimenti dicendo che sono un ottimo relatore ma io gli dico sempre a Paolo che è troppo buono cerchiamo di fare il nostro meglio qualcuno mi chiedeva il meccanismo attraverso il quale la vitamina D abbassa il paratormone allora il meccanismo è tutto sommato relativamente semplice vitamina D e paratormone nel momento in cui la vitamina D sta funzionando in maniera adeguata l'organismo l'organismo fa sì che il calcio che abbiamo nell'intestino passi dentro il sangue e pertanto il nostro bel sangue ha un'adeguata quantità di calcio tutta quella che gli serve che potrebbe anche essere poca poi non dobbiamo necessariamente prendere 10 kg di calcio al giorno e dopo ognuno ha la sua quantità ideale e pertanto nel momento in cui l'organismo sente che la vitamina D sta funzionando il calcio nel sangue è sufficiente capisce che il calcio è sufficiente riduce i livelli di paratormone per stabilizzare la situazione ci siete? pronto? e pertanto l'organismo riduce il paratormone perché si crea un nuovo tecnicamente si chiama steady state punto di stabilità che ci dice ho già abbastanza calcio nel sangue questa vitamina D sta funzionando abbassa un pochino il paratormone e manteniamo questa situazione stabile per cui come grandissime linee più vitamina D prendiamo e più il paratormone scende ma molto a grandi linee perché come vi ripeto varia da casa a caso da quanto calcio mangiamo da quanta vitamina D abbiamo nel sangue da quanto sono sensibili i nostri settori della vitamina D poi a grandissime linee per abbassare la vitamina D bisogna abbassare il paratormone e dobbiamo aumentare la vitamina D ma questo è un discorso molto generico bisogna valutare caso per caso e persona per persona la vitamina D ha un'altra importantissima funzione che è quella della protezione degli epiteli gli epiteli respiratori ma anche gli epiteli intestinali e parliamo appunto di barriera intestinale nel momento in cui la nostra permeabilità intestinale è né poca né troppa perché la permeabilità intestinale deve essere in qualche modo modulata la vita è fatta di equilibrio quasi tutte le cose della vita devono essere né poche né troppe questo vale per la vitamina D vale per tante cose ma vale anche per la permeabilità intestinale perché non esiste che la permeabilità intestinale sia zero perché non deve essere zero la permeabilità intestinale la permeabilità intestinale serve per l'assorbimento dei nutrienti l'importante è che la permeabilità intestinale non sia eccessiva e pertanto questa permeabilità intestinale viene modulata dalla quantità di vitamina D che abbiamo nel sangue perché non dimentichiamo che la vitamina D è estremamente importante per la gestione l'attivazione parziale o meglio per l'equilibrio più che gestione del sistema immunitario e indovinate dov'è il 70% del sistema immunitario di tutto l'organismo è nell'intestino per cui se noi abbiamo un intestino con un epitelio che non sia né troppo né troppo poco permeabile il nostro sistema immunitario certamente è contento come funziona la vitamina D a livello del sistema immunitario adesso cerco di spiegarvelo che non è così semplice ah prima abbiamo parlato degli azda dei cacciatori raccoglitori qui c'è una slide bellissima così vi fa capire che cosa sono e chi sono gli azda e più che altro quanto sono felici qui ci sono gli azda della Tasmania della Tanzania scusate loro sono una popolazione molto sparuta estremamente felice ed è estremamente sana hanno fatto tutta una serie di studi su di loro loro hanno pochissimi problemi delle malattie del benessere perché siccome ne avevamo parlato prima c'era il piacere di farvelo vedere e loro come vi dicevo hanno una vitamina D che varia dai 45 ai 60 e hanno una spettanza di vita gli azda spettanza di vita non vuol dire vita media spettanza di vita vuol dire più o meno quanto dovrebbero campare mediamente una persona anziana degli azda quando deve campare allora hanno fatto un bellissimo studio su questo questo studio è stato fatto alcuni anni fa per esempio all'epoca l'aspettanza di vita degli americani era di 80 85 anni adesso purtroppo si sta riducendo l'aspettanza di vita degli svedesi era di 72 anni ma l'aspettanza di vita degli azda era di 76 anni cioè l'azda senza medico di base senza ospedale senza pillolina per la pressione senza pillolina per il colesterolo e senza tante altre cose aveva un'aspettanza di vita di 76 anni gli svedesi ah no scusa quello di 72 anni gli svedesi invece nel 1800 aveva un'aspettanza di vita di 72 anni comunque insomma gli occidentali hanno adesso un'aspettanza di vita di 80 85 anni ma con pilloline contro pilloline ospedali medici contro medici tutta una serie di cose sacrosante per l'amor di dio però voi capite che l'azda di suo campa 76 anni senza grossi problemi di salute noi per arrivare a 80 dobbiamo fare una lingua lunga che è molto importante e pertanto il loro stile di vita il loro modello è molto importante questo modello si chiama positive biology biologia positiva guardare non i malati perché si ammalano ma guardare i sani perché come fanno a rimanere in salute e questa è una cosa molto importante e il loro stile di vita ha sicuramente tutta una serie di cose positive che noi potremmo anche copiare dove eravamo rimasti ho trovato un bellissimo studio dello stato della vitamina D in Italia e purtroppo questa carenza nutrizionale della vitamina D in Italia è estremamente importante vi faccio vedere così un grafico giusto per rendervi conto di come si è ammessi questo è il grafico Italia Bulgaria e Romania noi più o meno siamo a livello l'Italia è qui un po' peggio la Bulgaria e la Romania qui ci sono i paesi più sfortunati a livello europeo e per esempio ci sono dei paesi invece che hanno dei livelli molto più adeguati l'Ungheria la Repubblica Slovacca la Tedesca persino la Russia che non c'è il sole c'è la vitamina D più adeguata della nostra perché? sostanzialmente perché loro hanno l'abitudine di o integrare o fortificare cibi hanno tutta una serie di cibi in commercio fortificati di vitamina D per cui la loro carenza di vitamina D è molto meno grave rispetto a quella dell'Italia dove dicono chi sto paese do sole e pertanto la vitamina D non serve però purtroppo i dati ci smentiscono drammaticamente andiamo andiamo oltre con l'allarme che tempo fa ha lanciato la società italiana di petriatria dove ci dice che 6 bambini su 10 sono carenti di vitamina D e questo meccanismo è ancora più l'organismo lo sente ancora di più se abbiamo una dieta carente di calcio il top scusatemi così la battuta purtroppo lo raggiungono i pazienti che hanno tutta una serie di malattie reumatiche e in questo caso il valore medio di vitamina D è circa 16 e il 78% dei pazienti reumatici cioè 8 pazienti su 10 reumatici hanno valore al di sotto dei 30 e il 41% dei pazienti reumatici hanno dei valori sotto 12 perché voi capite nelle malattie reumatiche quelle autoimmuni per lo più questa carenza di vitamina D è ancora più pesante rispetto a quella della popolazione generale e tutta una serie di studi hanno cercato di mettere a fuoco carenza di vitamina D malattie autoimmuni non ultimo il nostro Paolo sono anni che ne parla e sono anni che cerca di divulgare la cultura della vitamina D chi ha problemi autoimmuni è quasi sempre carente di vitamina D e il fatto di avere livelli adeguati di vitamina D certamente aiuta in moltissime malattie autoimmuni alcune di queste malattie autoimmuni sono state studiate meglio altre sono state studiate peggio una delle malattie più studiate nello specifico è la sclerosi multipla nella sclerosi multipla per esempio un'adeguata somministrazione di vitamina D riduce il rischio di recidive di ricadute sostanzialmente ma questo vale un po' per tutte le malattie autoimmuni in particolare vale anche per la psoriasi il discorso della vitamina D in gravidanza ne abbiamo già parlato prima che è molto importante integrarla anche nelle donne anzi per lo più nelle donne gravide ma questa è un'integrazione che secondo me l'ha fatta un po' a 360 gradi perché visto i numeri che abbiamo vista questa carenza praticamente ubiquitaria di vitamina D è molto importante averla a livelli adeguati quali sono gli RDA cioè i valori la quantità di vitamina D consigliata a livello diciamo giornaliero dalle principali delle principali società scientifiche adesso vi vi faccio vedere quali sono i LARN cioè i livelli di assenzione adeguata della SINU società italiana di nutrizione umana e per la SINU per esempio adesso qui c'ho davanti la tabella adesso facciamo un esempio di un trentenne cinquantanovenne maschio il valore raccomandato per la popolazione è che sarebbe poi il minimo sindacale sono circa 600 unità al giorno per le donne qualcosina aumenta e per le donne in gravidanza il valore è sempre lo stesso questo è poi il minimo sindacale però sono valori diciamo è il minimo sindacale cioè il minimo dal quale partire per avere un'integrazione adeguata la SINU consiglia in ogni caso come il livello massimo tollerabile quelle famose 2.000 unità che vi dicevo per molte persone 2.000 unità sono più che sufficienti ma non per tutte e pertanto questo è un meccanismo che va indagato insieme al vostro medico al vostro terapeuta per valutare insieme che tipo di integrazione fare a grandi linee come funziona l'integrazione di vitamina D io lo dico spessissimo ai pazienti il valore di vitamina D che misuriamo nel sangue è una sorta di bicchiere cioè quanta vitamina D riusciamo a disporre perché l'organismo la utilizza a livello giornaliero allora questo bicchiere è quasi sempre vuoto quei 10 15 20 nanogrammi che vi dicevo è la quantità di vitamina D che c'è in questo bicchiere allora che cosa dobbiamo fare noi in primis dobbiamo riempire il bicchiere poi una volta che l'abbiamo riempito lo dobbiamo mantenere costantemente pieno possibilmente durante i 365 giorni dell'anno allora un buon modo per riempire il bicchiere è certamente prendere del sole nelle ore calde della giornata però voi capite qui da noi per esempio sta nevicando malgrado sia marzo non abbiamo tempo purtroppo abbiamo la pelle delicata proprio sporcia il sole e fa sì che ci si macchia la pelle e pertanto non sempre è possibile prendere il sole per avere adeguati livelli di vitamina D per cui subentra l'integrazione in base al valore di partenza cioè a quanto è pieno questo bicchiere noi dobbiamo regolare la nostra assunzione a grandi linee inizialmente si può dare una quantità di vitamina D anche abbastanza alta affinché il bicchiere venga riempito poi questa vitamina D una volta riempito il bicchiere si può anche ridurre in modo che questo bicchiere rimanga costante durante l'anno però questi sono discorsi dei dosaggi e i dosaggi vanno sempre e discussi con la persona che vi segue quindi una volta che abbiamo il concetto è questo inizialmente si può stare un po' più alti poi una volta riempito il bicchiere si può anche ridurre un po' il dosaggio in base a quanto abbiamo nel sangue spessissimo c'è la brutta abitudine di dare dei grossi dosaggi giornalieri di vitamina D e questi grossi dosaggi giornalieri giornalieri scusate mensili di vitamina D la classica fiala da 100.000 unità c'è la fiala di un prodotto che si chiama di base che spesso i medici spesso anch'io lo segno onestamente somministrano a livello mensile e quei 100.000 mensile o bimensile sono come dire un punto di partenza che vanno poi questi valori vanno poi come dire controllati e rivalutati poi nel tempo certo che se abbiamo il nonno di 90 anni che prende già 10 medicine aggiungere l'undicesima di una compressina giornaliera di vitamina D sarebbe l'ideale ma il nonno l'undicesima compressa ce la prende spesso non ce la prende in questi casi può essere lecito comodo e moderatamente efficace fare il famoso dosaggio mensile della fiala o bimensile della fiala da bere a livello diciamo di noi giovani e forti dove per noi la vitamina D diventa un aiuto giornaliero per il benessere sarebbe molto più importante prendere a livello giornaliero a giorni alterni adesso vi faccio vedere un grafico che vi dà un pochino un'idea di cosa succede quando diamo la botta di vitamina D da 100.000 unità nel momento in cui diamo 100.000 unità di vitamina D tempo un paio di giorni la vitamina D sale alle stelle poi riscende riscende la ridiamo risale e così via la vitamina D fa uno yo-yo che certamente non è ottimale per il nostro benessere può essere utile in certe situazioni particolari del nostro nonno che prende le 10 compressine però se è possibile prenderla a livello giornaliero sarebbe molto meglio tra l'altro molti studi clinici fatti con questo tipo di dosaggio hanno mostrato un'efficienza parziale per questo sali e scendi di vitamina D certamente non è fisiologico il mantenerlo costante è certamente meglio ma a sto punto noi abbiamo parlato di dosaggi 500 600 1000 2000 3000 unità fino a qualche anno fa questi dosaggi sembravano fantascienza e allora abbiamo cercato anche di capire il motivo alcuni ricercatori canadesi hanno un attimino messo i puntini sulle i qualche anno fa hanno fatto un bello studio hanno cercato di capire come mai dosaggi che si davano una volta 200 400 unità e già all'epoca 400 unità sembrava tanto adesso da 400 unità siamo passati a 2000 unità come mai questo salto 200 unità 2000 unità un salto di 10 e hanno cercato di capire e in effetti gli egregi colleghi dell'epoca forse avevano un pochino sbagliati i conti ottimi medici ma un po' scarsi in matematica c'era stato un errore statistico nello stimare il valore raccomandato di vitamina D e alcuni colleghi già nel 2014 per fortuna se ne sono accorti e hanno ci hanno fatto capire che la vitamina D va presa a dosaggi di 1000 2000 unità al giorno non di 100 200 unità al giorno perché 200 unità al giorno spesso e volentieri non ci lasciano neanche il costante nel sangue il valore con 200 unità al giorno spesso nel sangue continua a scendere il valore della vitamina D per cui per fortuna hanno rifatto i conti e l'hanno fatti meglio stavolta ma la vitamina D è tossica ma sì nel senso che certe volte può diventare tossica però dipende dalle dosi hanno fatto anche qui degli studi molto interessanti e generalmente il problema della vitamina D sostanzialmente è che potrebbe predisporci ad avere o troppo calcio nel sangue o troppo fosforo nel sangue tecnicamente si chiama ipercalcemia ed iperfosforemia queste cose sono piuttosto rare ma occasionalmente capitano i dosaggi critici sono quelli al di sopra delle 10.000 unità giornaliere e pertanto se noi entriamo nell'ottica o meglio se ci consigliano dei dosaggi da 10.000 5.000 8.000 10.000 unità in su bisogna tenere controllata abbastanza spesso la quantità sia di calcio che di fosforo nel sangue però questi dosaggi si possono fare esclusivamente sotto controllo medico da 2.000 unità in su o meglio da 2.000 e 1 unità in su diventa automaticamente una medicina non più un integratore la vitamina D per cui c'è bisogno di un terapeuta di un medico che vi segue comunque fino a 10.000 unità grossi rischi non se ne corrono però ogni tanto il calcio va controllato è aumentato da poco ah ottimo non ero aggiornato su questo Paolo mi segnala che da poco che da poco l'EFSA ha dato la possibilità di arrivare anche a 4.000 unità tutti i giorni o giorni alterni Paolo? no tutti i giorni tutto è vero che la metagenics adesso ha approvato in commercio un integratore di vitamina D da 4.000 giornaliere perfetto per cui adesso l'EFSA l'ha portata a 4.000 unità che insomma comincia a essere già valori di tutto rispetto 4.000 unità e tenete presente che il dosaggio ematico il valore teorico massimo del dosaggio ematico è 100 se voi prendete gli esami del sangue è quasi semplice scritto 30-100 valore ottimale sopra 100 tossicità in realtà da tutta una serie di studi fatti la tossicità inizierebbe da 200 in su 150-200 adesso vi faccio vedere anche la slide sopra i 200 c'è il rischio di tossicità quella famosa ipercalcemia ed iperfosforemia però noi persone normali certamente non ci portiamo la vitamina D a 200 così perché ci sta simpatico il numero 200 e non perché ci sia un motivo clinico quando lavoriamo con alti livelli di vitamina D c'è bisogno di una persona esperta che vi segue e che vi sa consigliare sui dosaggi adeguati sia sui dosaggi da assumere tutti i giorni sia sulla quantità ideale di vitamina D che dobbiamo avere nel sangue per cui giusto per concludere la vitamina D può essere o integrata può essere un integratore oppure può essere una sorta di medicina integrazione e trattamento parliamo di integrazione se rimaniamo intorno a qui i 2.000-4.000 unità che dicevamo parliamo di trattamento quando superiamo questi dosaggi l'integrazione è rivolta a tutti il trattamento è rivolto solo a delle si fa solo in certe condizioni particolari tenete presente che ci sono alcuni rari tumori rarissimi che risentono negativamente anche di valori bassi di vitamina D e pertanto insomma quando decidiamo l'integrale magari valutate un pochino bene tutto però i tumori che in qualche modo risentono negativamente in realtà sono 1 o 2 sono rarissimi però ecco magari può essere utile in qualche modo confrontarsi con il medico per cui le altre controindicazioni sono avere troppo paratormone nel sangue c'è una malattia che si chiama iperparatiroidismo cioè le paratiroidi che sono 4 palline piccole piccole qui di fianco la tiroide per qualche motivo impazziscono e cominciano a mettere nel sangue tantissimo paratormone anche queste sono cose piuttosto rare però in caso di iperparatiroidismo di solito lo fa una sola delle 4 e sviluppa un adenoma quindi diciamo che è proprio un adenoma secernente di solito si si Paolo giustamente ci diceva è una delle 4 paratiroidi che impazzisce si forma dentro un tumore benigno che comincia a secernere paratormone ma siccome il paratormone fa alzare il calcio nel sangue se ci perdiamo anche la vitamina D che è anche essa fa alzare il calcio nel sangue rischiamo di avere il calcio a livello troppo elevato per cui per cui ricordatevi se ci avete l'iperparatiroidismo ci sono delle sindrome paraneoplastiche con tumori endocrini soprattutto neuroendocrini che producono paratormone questo è un altro giusto giustamente Giustamente Paolo mi ricordava che alcuni rari tumori endocrini se c'erano già di loro paratormone cioè non solo le paratiroidi ma alcuni tumori sono cose estremamente rare però così vale la pena citarli per sapere che esistono altre cose che in qualche modo controindicano la vitamina D magari una sensibilità un'ipotetica allergia con le calciferolo cosa estremamente rara l'ipercalcemia e l'ipercalciura cioè avere troppo calcio nel sangue oppure troppo calcio nelle urine controindica la vitamina D sinrome nefrosiche si appunto sinrome nefrosiche anche un'insufficienza renale molto importante vanifica l'effetto della vitamina D e quel famoso tumore che vi citavo prima si chiama sarcoidosi nella sarcoidosi bisogna andare con i piedi molto di piombo perché già la sarcoidosi alza il calcio nel sangue di suo più che tumore chiamiamola quello che è la sarcoidosi è una malattia quando viene autoimmune granulomatosa però non è tumorale certo giustamente Paolo mi diceva che la sarcoidosi è una malattia granulomatosa che è un po' diversa rispetto al tumore io avevo cercato di semplificare un pochino troppo perché insomma perché dopo se semplificando diciamo cose scorrette certo giusto giustissimo giustissimo la sarcoidosi è una malattia granulomatosa non è un tumore in senso stretto e pertanto anche quella parzialmente autoimmune ed è uno dei rarissimi casi dove ci sono problemate autoimmune dove bisogna stare molto attenti con la vitamina D perché la sarcoidosi in qualche modo mangia le ossa e manda dalle ossa al sangue il calcio se poi questo calcio lo alziamo ancora di più con la vitamina D rischiamo di farle guai per cui ha maggior ragione in che casi lì bisogna farsi seguire anche perché dopo i granulomi calcificano e quindi peggiorano i 4 sarcoidosi per cui in queste malattie qui ricordate parlatene sempre prima col vostro medico per valutare insieme a lui la possibilità o meno di integrare ma sono malattie quelle che abbiamo citato estremamente rare però nel dubbio sentite il medico perché sai alla fine è meglio sempre avere un consiglio da un esperto dopodiché per cercare di quantizzare un pochino quanta vitamina D facciamo con il sole vi ho messo qualche piccola slide che adesso vi faccio vedere di un programmino molto molto carino di un'app che c'è sia per Android che per iOS che si chiama D-Minder e questa è l'immagine del D-Minder lo potete scaricare gratuitamente è molto carino vi chiede peso vi chiede l'altezza vi fa attivare il navigatore per cui vede dove siete in quel momento se siete a Oslo oppure se siete a Pantelleria e in base a dove siete vi dà un'idea di quanto vitamina D state facendo per esempio qui a settembre la vitamina D era di circa 133 unità in Emilia Romagna dove vado io a Ricciolo a prendere il sole quando riesco e per esempio qui sono stato in Abruzzo a Basto a Basto il 25 gennaio vitamina D zero si fa vitamina D ovviamente su al nord ancora di meno forse qualche speranza c'è giù in Sicilia ma molto lievi come speranze e l'uno di febbraio sempre a Basto si comincia a fare un pizzico di vitamina D si fanno 16 unità al minuto questo per la mia corporatura per il mio peso questo è stato fatto su di me con i miei parametri ovviamente se hai qualche domanda tu bala qualche curiosità no no direi che sei stato assolutamente completo e più che esaustivo anche secondo me hai tenuto un livello perfetto perché sei stato sia preciso che assolutamente comprensibile per cui obiettivamente se se riesci a vedere tu qualche domanda perché io non le vedo io purtroppo neanche perché ovviamente prima col video bloccato ho perso completamente la connessione per cui adesso io non ti vedo con la nuova diretta aspetta che provo a rivedere le domande che compariranno le risponderemo tramite messaggio certo e quello che mi interessava poi ricordare è che noi abbiamo anche un fantastico blog in cui si parla sulla vitamina D trovate due articoli che secondo me sono magistrali sulla vitamina D sia sull'effetto sull'effetto loro adesso mi sentono se è quello che secondo me no adesso lo dico anch'io dunque abbiamo parlato un pochino con Paolo e in effetti anche lui è soddisfatto di quello che abbiamo detto e sono molto soddisfatto anch'io se volete approfondire mi raccomando date un occhio al blog ci sono degli splendidi articoli sulla vitamina D che anch'io stesso ho letto e ho appreso qualche settimana fa e pertanto vi consiglio di guardare il blog perché lì c'è la possibilità di approfondire volevi aggiungere altro Paolo? ecco ti qua adesso ho trovato anche il secondo video ecco sì sì ecco ti ringrazio secondo me possiamo anche chiudere perfetto ragazzi grazie per l'ascolto le nostre Anchor Girl televisive grazie per l'ascolto sono stato molto contento di star qui con voi vi do un abbraccio a tutti un gran saluto a tutti speriamo di risentirsi in momenti un pochino più tranquilli perché sto coronavirus un po' d'ansia ce lo mette però teniamo duro stiamo in casa che presto finirà un abbraccio a tutti grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto